Salve a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovissimo video. Parliamo di Grande Fratello VIP, anzi torniamo a parlare del Grande Fratello VIP perché in questi giorni ci sono un sacco di notizie che riguardano anche il Festival di Sanremo, ma come al solito cercherò di impegnarmi al top per cercare di portare tutto quanto. Innanzitutto parliamo di questa giornata qui dove ci sarà una nuova puntata del reality e come al solito un sacco di carne al fuoco. Grande protagonista sarà ancora una volta Oriana Marzoli che sarà al centro in questi giorni di chiacchiere, di liti, di tante cose. La modella in pratica non è che abbia preso bene l'ingresso dell'ex di Daniele Dal Moro Martina Nasoni e non si è nascosta dal dirlo, cioè l'ha detto apertamente tranquillamente. Poco prima dell'ingresso di Martina Alfonso Signorini intanto aveva mandato una clip, una clip che riguardasse appunto lei e Daniele. Spiegava il conduttore, hai visto queste immagini e non ho voluto Daniele perché lui gioca in difesa, ma queste immagini ci fanno capire che il sentimento che vi lega sembra un sentimento forte. Sei d'accordo? La risposta di Oriana. Io penso che anche lui prova qualcosa di forte per me, anche se continua a dire sempre di no. Il motivo? Alla bella Oriana lo ha spiegato Edoardo Tavassi. Secondo Edoardo Daniele è attratto da Oriana ma sarebbe bloccato, non riesce ad andare oltre, si sente la terza scelta, ha spiegato ricordando la storia con di Antonino Spinalbese e Luca Onestini. Nulla è precluso ma serve un'inversione di marcia anche perché il loro rapporto non è partito con il piede giusto. Così non la pensa Martina che ha messo in guardia Daniele. Con l'ex infatti è stata più chiara dell'acqua limpida dicendo ti risparmi un sacco di rotture, ti risparmi di passare per una persona che non sei, ti risparmi delle attenzioni da una persona che non ti convince troppo. Se lei non ti convince, non ti convince. Martina non si è fermata qui e ha rincarato la dose. Tanto le persone non cambiano, lei non cambia. Sai cos'è che non ti porta a fidarti di questa persona? Secondo me tu sai che non potrai mai essere compreso da lei su determinati punti di vista. Guarda che è una roba importante questa. Parole queste che sicuramente verranno riportate nella prossima puntata. Ne vedremo delle belle.